AHHHHH! AHHHHH! AAAAAAAAAH! L'ho visto, l'ho visto! Eh signorina, si si calmi per favore? Ok ok... Comunque ho visto il mostro Ha cercato di addescarmi Non è difficile credere Visto i suoi precedenti Senta, voi la vostra perbutante autorità Mi avete scatenati Ed ora dovete fare qualcosa Ci stiamo già lavorando E pure quelle persone che uccise erano miei amici Vanno pieno di calmarci A me non interessa Vedete risolvere la situazione O la gente continuerà a morire Va bene signorina La terremo aggiornata Ma adesso mi lasci lavorare Arrivederci La terremo aggiornata La terremo aggiornata La terremo aggiornata Ho avuto una grande deduzione Hai capito? I mostri sono due Uno è il bastardo che abbiamo pestato E l'altro è quello che uccide Hai capito? Hai capito? I bet this is so terrible, I'll cut it. I got it. Grazie a tutti. Nessuno non è riuscito a fermarti, ma ora entri in gioco io. Non è riuscito a fermarti, ma ora entri in gioco io. Non è riuscito a fermarti, ma ora entri in gioco io. Non è riuscito a fermarti, ma ora entri in gioco io. Non è riuscito a fermarti, ma ora entri in gioco io. Non è riuscito a fermarti, ma ora entri in gioco io. Non è riuscito a fermarti, ma ora entri in gioco io. Grazie a tutti.